Due anni di presenza a Crotone per Stefania Argenti, a capo della soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone. L'architetto, collaborato dal suo staff, ha incontrato la stampa nell'ex Lazzaretto, sul lungomare Pitagorico. All'inizio eravamo solo in tre insieme volontari, ha spiegato l'Argenti, oggi ho accanto a me una squadra di professionisti calabresi che sono un'eccellenza di questo territorio e che hanno lavorato per supportarci. L'obiettivo è sempre stato quello di costruire legami con tutti i 107 comuni che gravitano all'interno delle province di Catanzaro e Crotone, con le diocesi, con l'Avvocatura dello Stato e le Forze Armate. Abbiamo cercato di lavorare sempre al meglio, creando grande collaborazione, cercare di determinare delle tensioni non è produttivo per nessuno. Crotone rimarrà la sede istituzionale, Catanzaro sarà la sede distaccata che però per quanto mi riguarda avrà la stessa medesima attenzione di Crotone. Spiega cosa è stato fatto in questi due anni. È stato fatto tanto, è stato progettato, è stato realizzato, sono state create delle alleanze con tutti gli istituti a vario titolo presenti sul territorio, sono stati richiesti fondi che sono stati ottenuti, abbiamo portato a termine piccoli ma importantissimi restauri sperimentali, abbiamo creato un ufficio, questa è la cosa importante, abbiamo creato un ufficio straordinario di ragazzi calabri che sono l'eccellenza della Calabria, declinati nelle loro varie funzioni, quelle interne all'amministrazione, funzionari e assistenti ma anche collaboratori che si sono messi a disposizione a fianco a noi e hanno lavorato indefessamente per supportarci. Lavori di Antica Crotone, lavori sul castello, lavori nelle cattedrali a che punto stiamo? Stiamo a buon punto, rispetto a come siamo partiti abbiamo fatto dei grandi passi in avanti, ci sono atti ufficiali che lo dimostrano, presto spero di mostrarvi anche i risultati di quello che sta accadendo all'interno del castello, sono felicissima che Filippo Demma e la sua struttura amministrativa possa avere l'opportunità di valorizzare un sito così complesso che solo un istituto che ha per vocazione la valorizzazione potrà sicuramente, congiuntamente anche con l'amministrazione comunale laddove volesse ovviamente e giustamente contribuire alla valorizzazione del sito, però questi sono aspetti legati alla loro volontà di collaborare, si riuscirà a fare una cosa straordinaria.